Avete presente quei videogiochi pensati per aiutarvi a scaricare la tensione? Quelli dove premete quasi tutti i tasti a caso nella speranza di vincere? Di cosa stiamo parlando? Ve lo racconto tra poco qui su Tech Princess. Questo è Tekken 7, è l'ultimo capitolo di una saga iniziata più di 20 anni fa ed è un picchiaduro, ossia un videogioco focalizzato sugli scontri tra due combattenti differenti. Questo gioco integra una modalità storia di breve durata che riprende gli eventi accaduti nei capitoli precedenti, tranquilli però non dovrete essere profondi conoscitori della serie per apprezzarla. La storia infatti ruota ormai da anni sugli scontri all'interno della complicatissima famiglia Mishima e Tekken 7 non fa eccezione. Sì, è vero, la modalità storia è un po' corta e la sceneggiatura non è sicuramente una delle più ispirate, ma tranquilli in Tekken 7 troverete tante altre cose da fare. Oltre alla classica modalità arcade troverete infatti gli episodi personaggio dedicati proprio ai personaggi della vicenda. Si tratta di circa 30 mini capitoli che vi consentono di scoprire qualcosa in più su ogni singolo combattente, di scontrarvi con la vostra nemesi e di godervi qualche simpatico episodio animato in computer grafica. Naturalmente non manca la possibilità di sfidare un amico in locale, quindi ospitandolo sul vostro divano di casa e dandogli un controller aggiuntivo. Nuova poi la modalità battaglia tesoro, pensata per portare a casa un sacco di oggetti diversi con cui personalizzare i vostri combattenti preferiti. Immancabile è anche il comparto online, in questo modo potrete sfidare persone provenienti da tutto il mondo. Tra le novità spunta la modalità VR, dedicata agli amanti della realtà virtuale. Attenzione però, la VR non porterà con sé sostanziali cambiamenti delle meccaniche di gioco. Non aspettatevi quindi di trovarvi a combattere in prima persona. Bandai Namco ha infatti preferito renderci spettatori dello scontro, proprio come succede senza il visore della realtà virtuale. Tekken 7 è indubbiamente dedicato a un vasto pubblico di giocatori, ma questo non significa che sia semplice. Gli appassionati infatti si troveranno di fronte a un gameplay divertente, frenetico e piuttosto tecnico, seppur fortemente ancorato al passato. Insomma, se volete scontrarvi con altri giocatori online, assicuratevi di essere ben allenati. Tekken 7 è un titolo perfetto per chi vuole scaricare la tensione, per gli appassionati del genere e persino per i nuovi arrivati che avranno modo di apprezzare sia la varietà offerta dal gioco, sia il comparto grafico di questo capitolo. Direi che per oggi è tutto, io vado a farmi sconfiggere a Tekken 7. Voi nel frattempo visitate il nostro sito www.tekprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!